Diciamo che sparisce la lista dei cani pericolosi perché non ha alcun fondamento scientifico, quindi in letteratura di medicina veterinaria non esiste alcuna codificazione. Quello che è importante, perché in realtà queste liste non hanno prodotto effetti di riduzione delle situazioni di aggressione, quello che è importante è davvero riuscire a cogliere i primi segni di difficoltà o di pericolosità dell'animale e inserire proprietario e cane in un percorso formativo obbligatorio oltre all'utilizzo di guinzaglio di museruola sempre in ambiente pubblico e sollecitare i proprietari ad avere molta attenzione anche in ambito privato, perché praticamente la stragrande maggioranza delle aggressioni purtroppo avvengono in proprietà privata.